Io mi limito mi limito a portare il saluto della classe di lettere a un suo figlio illustre come è Mario Telò appunto che da Pisa è lontano da molti anni mi diceva dal 2008 però però appunto la sua è stata una presenza. È stata una presenza significativa alla scuola, ha studiato, è restato a lungo, è partito come giovane studioso già in crescita e poi una volta negli Stati Uniti si è affermato ormai una studioso appunto di nome. Quindi gli do il benvenuto, il bentornato a nome della classe. Spero sia solo un inizio questo di ritorno e che poi ci sia un ritorno anche in presenza quando sarà possibile e quando Mario vorrà. Ringrazio naturalmente Luigi per aver organizzato questo incontro quindi ancora molti saluti, benvenuti a tutti e a voi la parola. Grazie, allora io farò una breve presentazione per la gran parte delle persone è inutile però insomma mi sembra doveroso e poi dirò qualcosa sull'organizzazione appunto di questo incontro. Mario è professore di Classics e di letterature comparate all'Università di Berkeley. Questo secondo me è anche interessante per vedere l'evoluzione del suo approccio, dei suoi studi, della sua inventiva critica. Appunto ha studiato a Pisa, la scuola normale, con un dottorato in lettere classiche qui alla scuola del 2006 e poi dal 2008 è stato professore di Classics all'Università di California Los Angeles. Prima come assistant professor, poi come professore associato al 2016 e poi dal 2016 professore di Classics a Berkeley. E appunto è autore di numerosissime pubblicazioni, è editore della rivista Classics all'Antiquity, contribuisce alla domenica del Sole 24 Ore. I suoi libri sono appunto, il primo era appunto I Demi di Eupoli del 2007, pubblicato appunto da Firenze, una collana diretta dal professor Giovanni Giaconte. E poi è autore di due libri più recenti, uno su Aristofale del 2016, University of Chicago Press. E del 2020, quello appunto, il libro su cui si basa la presentazione di oggi, appunto sulla teoria della tragedia greca, appunto pubblicato a State University. E' anche autore di raccolte di saggi, in particolare ricordo questo saggio pubblicato nel 2013, insieme a Lucia Proscello e Manu Bacola, da Cambridge University Press, sulla commedia I Generi, e un libro pubblicato con Melissa Müller sulle materialità della tragedia greca. E ha in corso vari progetti, tra cui un libro su Aristofane e un libro su testi teatrali e film, con un titolo incentrato su un oggetto. E appunto la locandina che noi vediamo, appunto, un dipinto di Francis Bacon, che è stato anche oggetto di un suo articolo, di un articolo recente appunto di Mario su Retro Imagination, e che discute anche nel libro. Ecco, come si struttura, come avevamo pensato di strutturare? Mario farà una presentazione di alcuni temi, di alcuni approcci del suo libro, e poi io avevo pensato, avevo discusso e fatto leggere il libro ai studenti che partecipano al mio corso, e ciascuno aveva preparato una breve domanda, andando un po' in ordine dalla prefazione ai vari capitoli, in modo da poter discutere, illustrare il tema. Naturalmente mi fa molto piacere che ci siano anche persone appunto da fuori, e senz'altro, diciamo, in qualsiasi momento è benvenuto l'intervento di tutti, ecco. Forse, diciamo, io darò poi la parola un po' in ordine, magari se qualcuno vuole intervenire, usi lo strumento di alzare la mano, oppure apri il microfono e intervenga. Va bene, allora io a questo punto mi taccio e lascio la parola a Mario con molto piacere, grazie Mario per aver accettato e per essere ritornato, anche se solo virtualmente, alla scuola dopo tanti anni. Grazie mille Luigi, grazie Giampiero, grazie dell'invito. Mi emoziona molto tornare alla scuola, anche se solo virtualmente, dopo tredici anni di lontananza e in queste condizioni di forzata immobilità. Mi verrebbe spontaneo di chiedere se c'è ancora la sala computer dove ho scritto il mio primo colloquio e il venerdì sera a mensa ci sono sempre i toast, un concetto che è difficile da spiegare agli americani abituati a toast. Magari qualcuno potrà soddisfare queste mie curiosità dopo la nostra conversazione. Ora voglio rivolgere un sentito ringraziamento a Luigi Battezzato, al preside Giampiero Rosati e all'intera classe di lettere per l'invito. Anche se qualcuno potrebbe pensare il contrario, il libro di cui parleremo questa sera o questa mattina è anche un prodotto degli anni passati qui o lì in normale e degli insegnamenti di vari maestri, di Franco Ferrari, di Gianbiagio Conte, di Glenn Most, di Maria Serena Mirto e di Luigi Battezzato. Cercherò ora di offrire un sunto di Archive Feelings e di spiegare cosa intendo con il sottotitolo Una teoria della tragedia greca, ma invece di focalizzare l'attenzione su singole letture mi preme dare spazio nel mio intervento e nella discussione ad alcune generali questioni metodologiche. Primo, come possiamo leggere la tragedia greca oggi, in questo particolare momento di crisi globale. Secondo, in che modo noi classicisti possiamo partecipare e dar forma al dibattito che la tragedia ha generato e continua a generare nella filosofia e teoria critica contemporanee. Terzo, come possiamo mettere al centro dell'indagine critica sulla tragedia la sua fenomenologia emozionale. Archive Feelings si propone di teorizzare un'estetica dell'anticatarsi. In altre parole, cerca di localizzare i piaceri del tragico non solo al di là della catarsi, ma in una deliberata sovversione di strutture e meccanismi formali che possiamo chiamare catartici. Ann Carson ha detto una volta, non ho mai capito la catarsi, la tragedia è qualcosa di più devastante. Il problema è come nella pratica di lettura dei testi concettualizziamo questa forza devastante, come la vediamo all'opera e soprattutto come la colleghiamo alla questione del piacere estetico. Se il piacere del tragico non è un momento di ritrovato equilibrio emozionale dopo una temporanea rottura di tale equilibrio, allora che cos'è? Per me la risposta ermeneutica, non empirica o tantomeno scientifica, è quello che Derrida chiama mal d'archiv, l'impossibile ricerca per una perduta origine che è il principio fondatore insieme costruttivo e distruttivo dell'archivio, inteso come edificio riparatore, come ricostruzione materiale di un passato mutilato, come fantasia ristorativa o possiamo anche dire restauratrice. La catarsi, in tutte le sue interpretazioni, anche quelle apparentemente antimoralistiche, come quella di Jacob Bernays, è una versione di questa fantasia e il suo fascino, a cui non resistettero nemmeno Freud e Lacan, è comprensibile. Catarsi è infatti, come sappiamo, la soluzione che Aristotele si inventa per salvare la tragedia dalla condanna platonica. È il filtro mimetico che impedisce all'intensità emozionale del tragico, dolore, pianto, ira, di turbare, traumatizzare o persino menomare, in maniera più o meno permanente, l'integrità o solidità maschile dello spettatore o lettore. Per Bernays, il celebre filologo che era lo zio della moglie di Freud, Marta, la catarsi è il momento di equilibrio dopo un misto di piacere e dolore che produce un'espansione delle potenzialità sensoriali del soggetto, qualcosa di simile all'estasi dionisiaca di Nietzsche o anche all'esperienza del sublime, come ha suggerito il mio collega Jim Porter. Il problema, per me, sta nell'idea di equilibrio e nella sua inevitabile dimensione normativa, che cerca di temperare o uccidere la forza devastante di cui parla Anne Carson. Più specificamente, l'idea di equilibrio presuppone un re, quello di restaurazione, riparazione o parole simili, cioè l'idea di una tensione tra un prima e un dopo, e contestualmente un desiderio di ritorno a un immaginato senso di stabilità. Questo desiderio, che è essenziale per l'idea di catarsi, è anche ciò che la blocca nel suo inevitabile provocare una ricerca impossibile per una perduta origine. Questo è il mal d'archiv che ho menzionato prima, la cui conseguenza è una specie di circolo vizioso, un futile ripetitivo autoavvitamento, una forma di perverso piacere. Una delle scene più celebri nella storia del cinema, da Psycho di Alfred Hitchcock, mi potrà forse aiutare a esemplificare quello che intendo e il modello teorico che costruisco nel libro. Questa è la scena della doccia di Marion Crane. Ci troviamo di fronte a un apparente catarsi prima del disastro. Come si coglie facilmente dall'espressione sul volto di Marion, c'è qualcosa di fortemente erotico e più precisamente orgasmico in questo momento. Ed infatti, nei suoi scritti biologici, Aristotele usa il termine catarsis per il sollievo eiaculatorio. Ma la rotonda fonte meccanica di questa cascata catartica ha anche qualcosa di ominoso, che annuncia il movimento ripetitivo del coltello omicida. Anche prima dell'epifania di questo utensile fortemente simbolico, il ritmo incessante dell'acqua depurante è anticatartico. E ancora di più lo è il primo piano del drenaggio, con i suoi cerchi liquidi che appannano la camera. Questa circolarità acquatica assomiglia al circolo vizioso di cui parlavo prima, un principio formale, psicologico e temporale che blocca la catarsi, ostacolandone l'andamento teleologico, deviando la traiettoria rettilinea dei suoi due significati, depurante ed orgasmico. Tale traiettoria è ridotta a un'insistenza ripetitiva, a un compiaciuto, prolungato indugiare prodotto dal desiderio di purezza assoluta, dall'illusione di poter essere completamente incontaminati, dalla fantasia di raggiungere un piacere fisico che in realtà si materializza solo nell'istante della sua dissoluzione. Quello che cerco di fare nel libro non è semplicemente di valorizzare apertura e indeterminatezza discorsive, ma è piuttosto di prestare attenzione a micro e macro elementi della forma tragica che emergendo oltre il livello rappresentativo contestano simili figurazioni catartiche, analoghe immagini di riparazione emozionale. Ho parlato fin qui di un circolo vizioso e di Maldarkiv, ma non ho chiarito che queste due idee sono interpretazioni del concetto forse più dibattuto, interpretato e reinterpretato nella filosofia continentale, quello che in al di là del principio del piacere Freud chiama Todesstriebe la pulsione di morte. Per Freud la vita è morte, nel senso che la pulsione di vita è l'istinto che riconduce l'organismo verso la sua origine, la non vita, il primordiale stato inanimato di cui la vita altro non è che una traumatica rottura. La pulsione di vita procede lentamente facendo in modo che questo ritorno avvenga a tempo debito, secondo le leggi dello sviluppo e declino biologico. La pulsione di morte invece accelera questo movimento, cercando di spingere l'organismo verso il suo passato inorganico prima del tempo, inducendolo ad annientare fin da subito il fatto stesso della sua esistenza. Perché il Todesstriebe è così importante? Perché cerca di dare una spiegazione dell'attrazione della falena per la lampada, vale a dire più in generale della tendenza negli esseri viventi e soprattutto negli umani a compiere consciamente o meno azioni che sono autodistruttive, che vanno contro l'istinto di massimizzare il proprio piacere, benessere e utilità. Freud, in altre parole, teorizza la co-implicazione di farsi e di sfarsi, di costruzione e di istruzione. Per Derrida, mal d'archiv è un'espressione del Todesstriebe perché l'idea stessa dell'archivio è fondata su un febbrile desiderio per l'archè, ma l'ultima assoluta archè è precisamente la non-esistenza. Ricostruire, riparare una perdita materiale attraverso l'archivio significa quindi in un certo qual modo stabilire un orientamento assintotico verso la fondamentale perdita, il vuoto della non-esistenza che è la prima o primaria archè. Non a caso archiviare significa preservare, salvare, mantenere, riparare quello che la catarsi farebbe con un corpo turbato, gravato, contaminato, ma significa anche dimenticare, rimuovere, nascondere, seppellire e quindi perdere. Per Lacan e Zizek, il Todesstriebe è precisamente il circolo vizioso, una spirale di vertiginosa insoddisfazione messa in moto dal vivere in quanto tale. Il mal d'archiv mette assieme le concezioni della pulsione di morte alla Freud e alla Lacan, una più concreta, materialista e post-umanista avan la lettre, l'altra più astratta e anti-umanista. Perché vi racconto tutto questo? Perché il libro vuole anche essere un intervento metodologico, non soltanto una teorizzazione di un'estetica anticatartica attraverso varie interpretazioni contemporanee del Todesstriebe, ma anche un tentativo di usare una lettura radicalmente formalistica della poeticità tragica come occasione per stabilire un dialogo anche tra tradizioni teoriche che sembrano diverse l'una dall'altra. Per esempio, cerco di stabilire un ponte comunicativo tra la psicoanalisi da una parte e una filosofia apparentemente anti-psicoanalitica come quella di Deleuze e Guattari, che è stata essenziale per recenti vitalistiche e post-umaniste letture del Todesstriebe. Ne parlo soprattutto nel terzo capitolo in relazione al desiderio di Filottete ed Ecoba di diventare acqua. In altre parole, il mio obiettivo è di orchestrare un incontro insistente, una giuxtaposizione continua ed eclettica attraverso cui la teoria critica contemporanea nei suoi vari orientamenti e la tragedia si possono complicare e trasfigurare a vicenda. Perché questa decisione? Perché volevo parlare a un pubblico più ampio di quello dei classicisti, a tutti gli accademici e non che amano e sono ispirati dalla tragedia greca, non smettono di interrogarla, ma pongono domande di solito molto diverse da quelle dei classicisti. Ma anche perché volevo dimostrare come la tragedia si nutre di dinamiche che ci possono far riflettere sulla situazione di crisi globale, politica ed ecologica che stiamo vivendo e sulla centralità del Todesstriebe nei violenti meccanismi immunitari e auto-immunitari di molti stati, degli Stati Uniti come dell'Italia. Soprattutto volevo stimolare una riflessione sulle possibilità antinormative, cioè emancipatorie, di questo principio psichico, proprio perché il mio è un intervento critico che si propone di spiegare come e perché la tragedia ci parla oggi, come entra nel dibattito corrente su estetica e politica, il mio approccio alla lettura dei testi è programmaticamente anticontestualista e non storicista. Il contestualismo storicista e neostoricista che ha dominato e continua a permeare lo studio della tragedia ha prodotto importantissimi contributi, ma la mia insoddisfazione con questo approccio è che stabilisce una dicotomia e una gerarchia tra, da una parte, lettori, spettatori del V secolo o comunque antichi e dall'altra noi, i moderni, considerando i primi, gli antichi, i privilegiati o esclusivi oggetti di attenzione e liquidando di fatto i secondi per paura del mostro dell'anacronismo o relegandoli nell'ambito della ricezione, come se lo studio critico di ogni testo, anche e soprattutto antico, non fosse esso stesso una forma di ricezione. Per me il ricostruttivismo storicista che inevitabilmente genera il proprio mal d'archiv è in un rapporto di omologia con la riparazione catartica. L'anticontestualismo è per me l'orientamento metodologico necessario per portare alla luce, ma anche per abbracciare e in qualche modo ricreare nel processo stesso della mia scrittura la recalcitranza estetica della forma tragica. Quest'ultimo punto mi porta a definire qualche caratteristica del mio formalismo e a inquadrarlo nel corrente dibattito su critica e post-critica. Questo è un dibattito che concerne lo stato della pratica di lettura o close reading negli studi letterari. Con post-critica intendo un orientamento teorico esemplificato per esempio dal libro del 2015 di Rita Felsky The Limits of Critique che reagisce contro una certa tendenza negli studi letterari strutturalisti e post-strutturalisti a tenere gli umori, le emozioni ed impressioni dell'interprete al di fuori dell'atto interpretativo. La post-critica dice in sostanza che non solo non è possibile ma in qualche modo non è raccomandabile escludere le disposizioni affettive dell'interprete dalla lettura. Pensare che l'interprete sia un agente assettico imparziale presuppone un rapporto gerarchico tra soggetto attivo e passivo oggetto che semplifica la complessità del processo interpretativo. Tale processo è invece proprio come ogni emozione uno scambio, un passaggio quasi insondabile di energie o intensità materiali, una destabilizzazione della distinzione tra soggetto e oggetto. Strutturalismo e post-strutturalismo sono anche stati accusati di avere un atteggiamento cosiddetto paranoico, di cercare verità nascoste sotto la superficie testuale e di conseguenza di porsi in una posizione antagonistica rispetto al testo. L'alternativa a questo tipo apparentemente paranoico di lettura è stata chiamata reparative reading o surface reading. Una lettura vale a dire che adotta un rapporto pacificatore, collaborativo con il testo, limitandosi a prendere atto di ciò che il testo sceglie di dirci ed evitando di spingersi al di là o al di sotto della superficie. Il formalismo che pratico in questo libro si posiziona sulla soglia tra critica e post-critica. tentando in realtà di superare l'opposizione tra paranoid e reparative reading e il suo corollario, vale a dire quella tra superficie e profondità. Per questo faccio mia l'idea di filologia di Werner Amaker come un rapporto affettivo o anche erotico con la tessitura della lingua poetica, mettendo in atto la connessione paronomastica tra filia in filologia e feeling, cerco di valorizzare elementi formali minuti o minori come isometrie, ripetizioni, composti, prefissi, suffissi, chiasmi, enjambament, l'aspetto verbale, elisioni e persino fenomeni fonetici di aspirazione. Tratto questi elementi non solo come indizi per stabilire inaspettate connessioni rizomatiche all'interno dei testi, ma anche soprattutto come potenziali vettori di resistenza estetica contro strutture della catarsi. In questo modo spero di modellare un tipo di formalismo che interiorizza il mal d'archiv come un'intensità interpretativa, nello stesso tempo ermeneutica e anti-ermeneutica che drammatizza nel suo rapporto con il testo l'estetica tragica anti-catartica di cui va alla ricerca. Ora voglio darvi un esempio delle mie letture anti-catartiche di come tentino di portare alla luce un livello antirappresentativo con forza estetico-politica sovversiva. Mi concentrerò sulla Medea e sul formalismo visivo dell'ultima scena della tragedia che il famoso vaso di Cleveland ci aiuta a immaginare. Indipendentemente da questioni di messa in scena questa epifania aerea di Medea su un carro attraverso la meccanè un espediente scenico tipicamente riservato di lei è un momento iconico che è sempre stato difficile da interpretare. Ci immaginiamo Medea in colo verso l'attica e ci viene data garanzia che dopo l'infanticidio si salverà ad Atene protetta da Egeo accolta o archiviata nella nuova comunità per guarirlo dalla sua sterilità. Ma la forma visiva che emerge da questo momento è quella di una sospensione a mezz'aria con tutte le sue implicazioni incluso un possibile disastro una caduta ricordiamo che Medea non è una dea stricto senso. Quello che voglio dire è che la rappresentazione qui si apre simultaneamente a un altro scenario non rappresentato ma impossibile da rimuovere interamente dalla nostra vista o dalla nostra vista mentale. questa sospensione un lessinghiano momento pregnante rende il futuro di Medea incerto andrà ad Atene o no ed interrompe la struttura catartica intrinseca alla prospettiva della sua trasferta e salvezza o archiviazione ateniese. L'interruzione coincide per il personaggio quanto per noi con un moto di Maldarkiv tale moto è generato proprio dal contatto a livello di possibilità o fantasia con l'archè della non esistenza ma anche dal circolo vizioso l'autoavvitamento masochistico della sospensione in quanto tale. L'oscillazione tra due scenari ferma o rallenta la linearità del mutios da Corinto ad Atene proprio come il vortice acqueo di Psycho rivela il carattere falsamente o illusoriamente catartico dell'indugio di Marion Crane sotto la doccia di Hitchcock. Ma il termine di paragone più appropriato credo che sia con il finale del film di Ridley Scott Thelma & Louise dove una sospensione sopra l'abisso del Grand Canyon configura una fuga dall'oppressione patriarcale. È qui che possiamo cogliere un potenziale estetico politico della forma tragica in questo caso visiva la sua resistenza contro la catarsi rappresentativa. La salvezza di Medea ad Atene coincide infatti con una sua rinnovata strumentalizzazione con la sua assimilazione nel sistema del futurismo riproduttivo che ha la stessa aspirazione omogenizzante dell'archivio. La sospensione di Medea un'elettrizzante vicinanza alla morte ma anche un suo sprezzante ostinato differimento apre una possibilità di fuga da questo sistema che ci limita e imprigiona mentre apparentemente ci salva e riscatta proprio come la catarsi. In questo esempio come in altri che discuto nel libro gli effetti di disorientamento percettivo ed emozionale generati da fenomeni formali dimostrano la co-implicazione di estetica e politica. Le implicazioni politiche che emergono dalle mie letture sono antiriparatrici ma non nichiliste. Valorizzano la negatività prodotta da una mancata sempre posposta attualizzazione come virtualità liberatoria come potenziale emancipatorio. In altre parole questa emancipazione non è qualcosa che si può tradurre facilmente in termini politici esistenti già familiari e questo è proprio il punto. La sospensione di risoluzione è ciò che minaccia l'apparente attualizzazione catartica ma in questo momento negativo c'è la possibilità di alterare il sociale di espanderne i limiti in direzioni imprevedibili. La mia posizione è diversa ma non incompatibile da quella di Bonnie Oenig in Antigone Interrupted da quello che lei chiama umanismo agonistico un umanismo che contesta la centralità del soggetto individuale tradizionalmente inteso attraverso l'azione collettiva femminile e il raggiungimento di un certo obiettivo grazie a un'alleanza sororale quella emblematica di Antigone e Ismene. La mia enfasi sulla negatività vertiginosa di un formalismo anticatartico cerca di rispondere al rischio che l'insistenza su un fine su un obiettivo si possa risolvere in meccanismi anche involontari di chiusura teleologica in un compiacimento nell'efficacia delle proprie azioni individuali o collettive e delle proprie capacità la conseguenza di ciò potrebbe essere un'esclusione della forza anarchica offerta da insoddisfazione antidirezionalità sospensione una forza anarchica in altre parole associata alla possibilità di torcere o contorcere l'intrinseca normatività della linearità temporale potrei anche dire che il mio è un tentativo di riconciliare relazionalità e antirelazionalità in chiave psicologica ed estetico-politica torsioni e contorsioni sono parole che non ho scelto a caso evocano infatti l'etimologia della parola inglese queer che è connessa al verbo latino corqueo il libro infatti crea un dialogo tra la tragedia e queer theory che ha elaborato metodi interpretativi per teorizzare non soltanto soggettività non eteronormative ma per immaginare in generale possibilità di torsione del sociale delle strutture sociali coppia famiglia riproduzione che tendiamo a prendere per scontato si potrebbe dire che nel libro vado alla ricerca di contorsioni estetiche e politiche suggerite da vere e proprie torsioni formali come chiasmi e jambemonts che sono anche torsioni fisiche come quella del pannello centrale del quadro di Francis Bacon la sua versione dell'Orestea che discuto nel libro e che è riprodotta nella bellissima locandina di questo evento in questo pannello il pannello centrale per come lo vedo io il corpo di Oreste si mostra nello sforzo impossibile di entrare nell'archivio interiore del corpo che possiamo interpretare come la cripta melancolica in cui è contenuto sepolto o archiviato il vuoto che è Agamennone questo è Oreste ma come suggerisco nella mia lettura delle coefore lo spasimo dipinto da Bacon che si sentiva spesso perseguitato dalle rinni è proprio il movimento formale di questa tragedia a vari livelli ma è anche il movimento dei nostri sensi e dei nostri corpi quando vediamo o semplicemente leggiamo questa tragedia nel libro il concetto di archivio è usato nel modo più onnicomprensivo come un edificio il metron di Atene Antica o il museo ebraico il museo ebraico di Daniel Lipskin a Berlino che manifesta l'intento precario di consolidare il passato e fissarlo ma anche come corpo un assemblaggio di tracce e impressioni di esperienze passate similmente gli archive feelings che considero nel libro sono vari oltre alla spasmodica autopenetrazione delle coefore l'accelerazione frenetica dell'edipo colono la noia dell'accumulazione materiale nelle fenice la vertiginosa sospensione della medea il senso di un continuo vortice senza respiro dell'eracle la bulimia o indigestione affettiva di filottete ed ecuba il ritmo seriale etero ed autodiretto di un coltello nell'ifigenia in taurede l'infiammazione autoimmunitaria delle eumenidi la sensazione di orgasmica incompletezza in edipo re o di tristezza poscoitale nelle baccanti come dico nell'introduzione sia che venga concettualizzato come un futile movimento circolare intorno a un passato perduto a un'inaccessibile interiorità all'immaginata finalità del piacere sessuale alla fantasia di un'impossibile intensità emozionale alla materialità della morte stessa il mal d'archivio che permia la tragedia ci fa rabbrividire e insieme ci infiamma ci immobilizza e insieme scuote ci lega insieme dissolve il tutto simultaneamente e senza mai una fine in vista la tragedia in altre parole ci invita in un momento di crisi a prestare attenzione a un'estetica della crisi ad esperienze affettive sensoriali la cui negatività parossistica apre intervalli di dissenso nell'apparente solida unità della rappresentazione rileggere la tragedia in questa prospettiva potrebbe persino farci desiderare di diventare un oggetto dell'archivio un oggetto in altre parole la cui mutilazione si può interpretare come una possibilità di perenne divenire di resistenza contro l'oggettificazione che la catarsi al pari di imperativi sociali come produzione e riproduzione ci impone la tragedia greca ci impone invece di ripensare il soggetto umano di rivedere la dicotomia di vita e morte di immaginare regimi temporali non lineari attraverso il nesso di forma estetica e politica questo di questi tempi non è poco e per questo come Archive Feelings cerca di suggerire vale la pena di esporsi alla vertigine della tragedia vale la pena di visitare e rivisitare l'archivio dei suoi contagiosi piaceri anticatartici e qui finisco grazie 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 grazie